Play-off al via con il botto. Trento regola Sassari con punteggio basso, il 65-55 vale l'1-0 nella serie. La sorpresa arriva dal Forum, dove una Milano di minimo impatto nei quarti scudetto cade dinanzi ad una super-orlandina del coach casertano Di Carlo e dell'ala centro-irpina Giannuzzi, top scorer paladino con 18 punti. Per Avelino è tempo di gara 1, ore 20.30 la palla 2 tra la Sidigas Avelino e la Grissinbon Reggio Emilia. Joe Ragland è tornato dagli States ed è potenzialmente a disposizione di coach Stefano Sacripanti. Dopo le ore trascorse in famiglia nel ricordo del fratello Sean, morto ad inizio settimana, il play di Springfield ha fatto rientro ad Avelino, ma per impiego e minutaggio tutto sarà deciso nelle ore pre-gara. La scandone riabbraccia Ragland per una scelta personale forte, quella di superare il lutto e di spingere e sostenere i compagni nel primo atto play-off. Il momento in cui cambia tutto, c'è una sola strada, quella del successo. Avelino è pronto a difendere il fattore campo contro la Grissinbon Reggio Emilia, che farà esordire Julian Wright, ultimo arrivo sul finale di regular season per il team bianco-russo. Cambio di mentalità richiesto da coach Menetti, lupi davvero branco, il monito di Sacripanti sponda Avelino. Il tecnico della scandone ha caricato squadra e ambiente, che è pronto a rendere incandescente l'atmosfera del pala del Mauro a sfiorare il tutto esaurito. È game day e Avelino Reggiana, il quarto di finale scudetto, può cominciare. Grazie. Grazie.